Musica Giovedì 4 aprile, buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV Questa è la rassegna stampa del mattino del 7.30 in diretta e naturalmente poi con tutte le repliche sino alle 13.30 questo è l'ultimo passaggio in televisione ma è sempre disponibile sul nostro sito internet occhianotizia.it Allora andiamo subito a vedere il santo di oggi, oggi la chiesa ricorda Sant'Isidoro di Siviglia ebbe i Natali verso il 560, il sole è sorto alle 6.44, tramonterà come vedete alle 19.38 minuti il tempo, andiamo su trebimeteo.it, si apre con una giornata, una mattinata piuttosto soleggiata poi però nel pomeriggio arrivano le prime piogge sul nord della regione e il pomeriggio sera, tardo pomeriggio sera invece anche l'arrivo dei temporali che saranno anche di forte intensità, localmente di forte intensità poi la notte migliora a parte qualche residuo a pioggia nel Fermano e nella costa anconetana per la giornata di domani, andiamo a vederla subito, ecco è previsto il vento questa è la grafica con queste foglioline attorno al sole che indicano il rinforzo dei venti poi torna di nuovo la pioggia nel corso del pomeriggio, vedete nella parte limitata alla collina e alla costa centro-settentrionale delle Marche e poi migliora invece nel corso della nottata per quanto riguarda la giornata di sabato invece il sole è previsto perlomeno al mattino con temperature in risalita e soprattutto schiarite schiarite mentre già il pomeriggio un po' di foschia così la sera e la notte di sabato tornano un po' di piogge soprattutto sulla costa centro-meridionale della regione queste sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni e per la giornata di oggi adesso andiamo invece a vedere i giornali cominciamo con questa bella fotografia che ci ha inviato Elisa alle 6.45 di questa mattina è una fotografia scattata dalla spiaggia di Pesaro e il sole che vedete sorge in questo nuovo giorno paga un mostro le foto sexy hackerati clienti di un legale l'avvocato Catenacci, Donatella Catenacci un hacker si è introdotto nel sito di questo avvocato appropriandosi degli indirizzi dei suoi clienti l'hacker ha contattato uno di loro chiedendo soldi per non pubblicare foto sexy a centro-pagine invece il successo del Fano Calcio che vince contro gli amici della Fermana che ormai hanno raggiunto una situazione di classifica piuttosto tranquilla mentre il Fano sappiamo ha bisogno assolutamente di punti a tutti i costi ed è in fondo, in fondo, in fondo, ultima e adesso torna in corsa per la salvezza grazie a due gol questo è il risultato finale Conate nel primo tempo poi Ferrante nella ripresa piegano la Fermana e Granata dunque aggancia nel Rimini e ora aumentano le chance questa invece è l'apertura del resto del Calino di Pesaro ecco il parco dell'ex AMGA così sarà l'area verde bonificata e questo è il rendering che ha presentato il sindaco uscente Matteo Ricci sulla nuova questura è subito battaglia il SIULP contesta il prefetto quella sede non è sicura e poi sulla rotatoria davanti alla caserma di Pesaro Belloni ci riprova ma c'è anche la cronaca che vedremo tra poco con sguardi insistenti un processo che vede un quarantenne imputato per stalking si è preso, si è beccato sei mesi sei mesi perché puntava continuamente la vicina di casa e adesso la pagina di fano del resto del Carlino in città il nuovo sport dare fuoco ai cassonetti piromani scatenati tre in fumo in una settimana ieri incenerito un contenitore per la plastica il cassonetto in questa fotografia in questo fermo immagine della chiesa del porto dall'allarme sono stati passanti passanti che hanno chiamato i vigili del fuoco attorno alla mezzanotte poi c'è questa quest'altra fotografia invece che riguarda dei polli polli e galline in strada ieri mattina intorno alle 5 un camionista che stava trasportando e stava consegnando del pollame fresco forse ha preso un po' troppo velocemente una rotatoria una rotatoria ovale all'imbocco della superstrada e ha perso parte del suo carico i polli sono finiti in strada e molti dei quali sono morti poi sotto sempre nella pagina del Carlino questo frigorifero questo grande frigorifero lasciato, abbandonato nel campo d'aviazione che è diventata una discarica a cielo aperto ma ormai da sempre un problema annoso abbandonato un frigorifero dopo che l'area in passato era stata ripulita paga la FIT paga o diffondiamo le tue foto sexy attacco hacker ai clienti dell'avvocato richiamo in apertura nel Corriere Adriatico cosa rischiano coloro che pensano di far soldi in questo modo il reato che viene definito come revenge porn è previsto per questo reato il carcere da 1 a 6 anni e multe fino a 15 mila euro viene punito anche chi attenzione avendo ricevuto immagini sessualmente esplicite le cede o diffonde previste gravanti per la diffusione via social nei casi più gravi è possibile che la procura proceda ad ufficio senza che il fatto sia denunciato dalla vittima dunque soprattutto anche tra i ragazzetti se vi mandano qualche fotografia un po' così o se voi prima di diffonderla a mo' di catena pensateci bene perché il rischio è molto elevato questa è invece la pagina 2 del Corriere Adriatico di Fano l'estate fanese in una brochure pronta alla guida ai grandi eventi Leonardo e Vitruvio la nuova scommessa accanto a Passaggi Festival al Festival del Brodetto e poi a Jets by Desi Schieroli Sergio Schieroli fanese doc sfoglia l'album dei ricordi cittadini domani alle 17.30 nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano presenterà il suo ultimo libro dove vengono raccolte tante foto e tanti ricordi della città che spesso purtroppo non c'è più ed è profondamente cambiata atti pienamente legittimi l'assessore irreprensibile Samuele Mascarini assessore servizi educativi parla delle assunzioni e dei contributi l'amministrazione comunale interviene in sua difesa e anche qua la notizia sul Corriere delle galline in fuga prese salvate del frigorifero a pezzi scaricato sul prato del capo d'aviazione la guardava in continuazione condannato un quarantenne e sei mesi di reclusione per stalking aveva nel mirino la vicina di casa sono fatti che risalgono dal 2015 poi 2017 un quarantenne con l'abitazione in un condominio nei pressi dell'alberghiero a pesero che ha continuato a molestare pur senza dirle una parola una 36enne che vive da sola a pochi metri di distanza in questa storia di stalking non ci sono telefonate messaggini squilli muti o whatsapp messaggini vocali eccetera nulla di tutto questo scrive questa mattina il resto del Carlino e niente questa persona ha cominciato a tartassarla insomma addirittura spegneva le staccava la luce perché uscisse insomma un po' di un po' così leggetevi l'articolo dove se siete interessati a questa storia sul resto del Carlino mentre sulla pagina del Corriere Adriatico d'Ancona c'è questa pazzia fatta da da quest'uomo che è salito un uomo che ha aggredito l'autista perché a un certo punto si è accorto mentre stava stava comodamente seduto sull'autobus che l'autobus stava andando da un'altra parte lui doveva andare in centro storico a D'Ancona l'autobus stava andando giustamente a fare la sua corsa ma evidentemente aveva sbagliato autobus questo però è andato fuori di testa e ha preso a testate l'autista che poveretto insomma stava lì a fare semplicemente il suo lavoro devi portarmi in centro questo è quello che ha detto l'uomo e che poi appunto lo ha ferito scagliandosi a suon di testate contro il malcapitato autista ho visto morire mia figlia ma la gente con il suo affetto ci ha ridato la speranza siamo sulle pagine di San Costanzo del resto del Carlino il papà di Martina morta di leucemia ai 500 che sono in marcia per lei quel selfie scattato mentre si recava per le cure a Milano palasporto intitolato a lei ho visto morire mia figlia dice i disperati tentativi dei medici di Fano che hanno fatto di tutto per cercare di rianimarla quando il suo cuore ha smesso di battere da quel giorno la mia vita e quella dei miei cari è cambiata per sempre dice tra i tanti momenti che non potrò mai dimenticare c'è il nostro viaggio verso Milano del 23 novembre del 2016 per andare a fare le terapie è una storia che commuove ma che dà tanta gioia e tanta speranza guardate quanta gente ha l'iniziativa dedicata appunto a Martina Pagnetti quanta gente qua in marcia per lei e questa è una bellissima immagine appunto di lei con il papà andiamo avanti gli infermieri ora hanno l'ordine la Presidente Biagiotti dice così si combatte l'abusivismo il 15 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge 3 del 2018 di riordino delle professioni e della dirigenza sanitaria che ha sancito il passaggio per l'ente di riferimento degli infermieri da collegio i PAVSI ad ordine delle professioni infermieristiche dunque non esiste più la Federazione Nazionale dei Collegi PAVSI ma che è diventata dunque Federazione FNOPI e quindi insomma hanno il loro ordine e penso che sia una cosa più che buona e allora adesso sulla pagina di Pesaro del Carlino no ai sacchetti e alle stoviglie guerra totale alla plastica sia in spiaggia che in città a settembre l'ordinanza che insomma vieterà questa plastica monouso dal mare a Cattabrighe pronto al secondo mandato siamo sulla pagina di Valefoglia Ucchielli si ricandida sindaco domenica con David Sassoli ex conduttore del TG1 molti lo ricorderanno è giornalista avvio ufficiale per lui per Ucchielli della campagna elettorale Mele Marce invece contro la sede di Baiocchi siamo a Pesaro Baiocchi Nicola Baiocchi è candidato a sindaco di Pesaro e che sfida dunque Matteo Ricci per il centrodestra lievi danni subito rimediati in via Diaz ma è partita ovviamente la segnalazione nessuno ci intimidisce ha detto il candidato noi alziamo le spalle e puliamo dove c'è sporco danni anche invece alla Free Library e un altro episodio che è venuto però al Parco Scarpellini queste Free Library sono delle cassette dove la gente mette dei libri anche quelli che magari ha già letto e magari ne prende un altro e li mette a disposizione sono gratuiti è una bella iniziativa che c'è un po' in giro per il mondo ma come sempre gli italiani spesso non tutti per fortuna ma c'è qualcuno che è allergico alla cultura e quindi non la sopporta e quindi la devasta questi sono invece questo è il riquadro con i dieci dirigenti che guadagnano più di tutti o meglio sono gli stipendi dei dirigenti non è che guadagnano più di tutti sono gli stipendi dei dirigenti e il Corriere li ha messi in fila da quello che guadagna di più come Giovanni Montaccini segretario 106 mila euro fino a Stefano Gioacchini che ne guadagna 83 mila quanto spende il Comune di Pesero per questi stipendi? 900 mila euro questo è quanto guadagnano i dieci dirigenti in tutti su tutti il segretario generale l'unico a superare i 100 mila euro complessivamente erogati 94 mila euro come premi di risultati ma la macchina è più leggera quanto guadagna chiederete voi il sindaco Matteo Ricci ve lo dico subito la busta lo dice il Corriere Adriatico la busta paga di Matteo Ricci è poco più di 2700 euro al mese pica è il giorno del confronto si tinde i dipendenti in piazza i vertici della società attesi in Comune alle 15.30 da Ricci Biancani e con Biancani e sindacati dopo l'incontro ci sarà anche Confindustria e adesso la questione della questura i sindacati restano su posizioni opposte l'anzi del SIL dice il prefetto si sbaglia frega del SIL invece finalmente la decisione che si attendeva dall'altra pagina del Corriere Adriatico si parla del concorsone in municipio caccia aperta al posto fisso si cerca un esperto amministrativo contabile la prova scritta l'11 giugno sono attese molte persone per questo concorso comunale di fine mandato ci sono anche altri due concorsi per quasi 30 assunzioni le prove si terranno però dopo le elezioni ci sono 22 posti disponibili le domande vanno presentate in comune entro il 29 di aprile e per tutti gli interessati è possibile scaricare il bando sul sito istituzionale alla voce amministrazione trasparente risarcimento agli agricoltori danneggiati dall'esondazione a Montefelcino campi allagati dal Metauro raggiunto un accordo bonario con le assicurazioni dopo 4 anni di battaglia legale si chiude il contenzioso con una intesa economica stiamo parlando di un di un'alluvione che ci fu nel ci fu diversi anni diversi anni fa la ricordiamo ancora un po' tutte le esondazioni di questo fiume che allagò diversi campi e fece molti danni situazioni di grave degrado la cesanense così è pericolosa dalla Valle del Cesano Lucchetti chiede al sindaco di Mondolfo di provvedere almeno alla segnalettica orizzontale è inoltre necessario avviare un'opera di manutenzione Barbieri il sindaco solleciti la provincia da San Lorenzo in campo brilla il centro storico ora spazio alle frazioni Dell'Onti il sindaco prosegue i lavori di decoro urbano e annuncia interventi nelle contrade dunque in periferia questa è invece la pagina di Urbino Gambini in sindaco errori e 13 punti disattesi sgarbi sì utile ma solo da parlamentare Londei replica a sindaco e assessore io come peppone nessuna offesa come con me via il clima repressivo e quindi avete capito stiamo parlando delle amministrative e poi sempre da Urbino i fratelli imbrattatori chiedono scusa erano stati denunciati ieri il ravvedimento è stato giudicato tardivo e questa è la fotografia di quest'alba che è già passata ne attendiamo un'altra quella di domani intanto noi ci vediamo stasera alle 20.30 al tramonto per questa edizione della nuova edizione del telegiornale alle 20.30 grazie per essere stati con noi arrivederci